Bentornati su MyFootballGersey. Vediamo questa maglia stupenda, ovviamente di una squadra molto blasonata argentina, questa del Boca Juniors, la prima in edizione FAN. Grazie a tutti. Colori brillanti, peraltro stupendi, perfette in ogni particolare, il costo lo vedete qui sopra, vi ricordo che include anche le spese di spedizione. Se volete sapere di più di questa maglia e vedere altre proposte, trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari, quindi ancora più conveniente. Ora vi lascio alla parte finale, prima però iscrivetevi al canale, questo è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.